Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come fare il root sulla nuova versione di Android, la 4.3. Come possiamo vedere, praticamente abbiamo montata la versione 4.2.2 qui sul tablet. Eccola qui. Ecco, si legge. E dunque, essendo uscita in questi giorni la nuova versione, ovvero la 4.3, noi avendo il Nexus 7 possiamo aggiornare prima di tutti gli altri. Dunque adesso faremo l'aggiornamento e vediamo poi come fare il root su questa nuova versione. Ok, dopo l'aggiornamento ho il tablet aggiornato alla versione 4.3. Lo possiamo verificare dalle informazioni sul sistema. Ed ecco, qui sta scritto versione Android 4.3. Dunque usciamo dalla schermata delle impostazioni e andiamo sul desktop. Una piccola cosa da precisare è che per esempio abbiamo la schermata che dinamicamente viene messa in orizzontale nella ROM stock in questo 4.3. Vabbè, al di là di questo, comunque per fare il root abbiamo bisogno di due file, dei quali trovate il link in descrizione, come sempre. Il file appunto del root che alla fine è un archivio zip e poi un programmino che ci permette di installare la recovery. Siccome adesso avendo aggiornato fondamentalmente non abbiamo più la recovery o meglio abbiamo quella stock con la quale possiamo interagire solo tramite linea di comando ed è meglio installare una delle solite, quindi ho la clockwork moto o la team win a livello di recovery. Dunque, quello che facciamo è collegare il nostro tablet da acceso all'inizio al nostro computer. Quindi lo attacco. qui ho i miei due file, devo aspettare che il mio tablet venga riconosciuto, quindi apro la memoria interna, però prima estraggo gli archivi. Allora, questo qui che si chiama super su non deve essere estratto, quindi noi andremo ad interagire solamente con l'archivio zip, così come lo abbiamo scaricato, mentre l'altro andrà estratto in quanto si tratta di un programma. Dopo averlo aperto fondamentalmente dobbiamo eseguirlo, però la prima cosa da fare adesso che abbiamo collegato il tablet come periferica di massa, allora apriamo la memoria interna e copiamo il file super su, quindi l'archivio da un megabyte 141k all'interno della memoria del tablet, dove vogliamo noi. Io lo metto nella cartella principale e quindi ce l'ho qui. Fatto questo, ho finito per il file da copiare sul tablet e poi fondamentalmente devo solamente spegnerlo, quindi lo spengo e lo devo riavviare manualmente, eccolo qui sta spegnendo, lo devo riavviare manualmente in fast boot mode. Per chi non lo sapesse il riavvio in fast boot mode è semplicissimo, basta come al solito premere i due tasti contemporaneamente, quindi il pulsante di accensione è il pulsante del volume verso il basso. Dunque lo faccio ed ecco che ho il mio tablet in fast boot mode. Fatto questo, con questa schermata lo ricollego al mio pc. Ovviamente non viene riconosciuto come archivio di massa perché è in fast boot mode, siccome adesso ce l'ho in questa modalità, avvio il programma che avrò estratto precedentemente, quindi all'interno dell'archivio possiamo vedere che c'è questo programma, ncry si chiama, e faccio doppio clic e lo avvio. Attendo che il programma parta, consento l'esecuzione. Ok, ecco qui dunque l'interfaccia, andiamo su recovery menu, clicchiamo, ci dice che il nostro tablet in fast boot mode, anche se in realtà lo abbiamo collegato, lo stacchiamo e lo riattacchiamo. E infatti poi adesso dice devices in fast boot, quindi ci dice che in fast boot mode. Adesso dobbiamo cliccare su nexus version, selezioniamo nexus 7 normale per il nexus 7 wifi, qualsiasi dimensione, oppure nexus 7 3G per la versione 3G. Ovviamente questo metodo vale per tutti nexus, quindi anche se abbiamo un nexus 4, un nexus 10 o volendo un nexus 7 2013, quindi il nuovo modello di nexus 7. Quindi clicco su nexus 7 e scelgo la recovery, metto team win recovery project, scelgo se flasharla temporaneamente o permanentemente. E dopo che avrò cliccato poi sul comando che abbiamo visto sotto per confermare, mi partirà in automatico dopo pochi secondi la recovery. E a questo punto non devo fare altro che andare su install. Stessa cosa anche su clockwork mode, potete scegliere quella che più vi piace. Su clockwork mode c'è scritto apply zip from SD card, quindi alla fine è la stessa cosa. Comunque si trova il file all'interno della memoria del tablet, quindi eccolo qui, quello che ho copiato prima, l'ultimo, quindi clicco su super user e devo poi solamente fare uno swipe per confermare il flash. Quindi faccio lo swipe e dopo pochi secondi il procedimento finisce. A questo punto posso scegliere se fare un wipe cache dalvik, un reboot system, faccio un wipe cache dalvik, che ho detto che lo faccio quasi sempre, fondamentalmente anche nei precedenti tutorial e alla fine clicco su reboot system. A questo punto il mio tablet si riavvia fondamentalmente e vedremo che avrà i permessi di root dopo appunto aver fatto questo flash semplice del file. Io vi ricordo che entrambi i file li li trovate in descrizione a livello di link, per uno è quello di chain file, quindi del file zip, per l'altro si aprirà il sito dove col primo link poi scaricate quello che è l'Incry Toolkit, quindi abbiamo visto il programma che abbiamo utilizzato. Adesso vabbè è il primo avvio, quindi mi fa l'ottimizzazione delle applicazioni perché ha installato il root e poi alla fine il tablet appunto si riavvia. Adesso il tablet è ruttato senza problemi, se apro le mie applicazioni posso andare su rom manager, posso vedere, vabbè mi da praticamente un aggiornamento, vabbè lascio stare qui, possiamo vedere che mi funziona rom manager, ho in automatico installato super user, praticamente super su, quindi fondamentalmente il root è andato a buon fine, come al solito il procedimento è abbastanza semplice, il tutorial di oggi finisce qui, come al solito se vi è piaciuto, se vi è servito lasciate un mi piace, io vi ricordo che se avete delle domande potete scrivere sui commenti del video, sul profilo twitter o la pagina facebook dei quali trovate il link in descrizione, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.